ragazzi buongiorno oggi siamo adesso nei con i medici ragazzi qui facciamo la gita al contrario come dice francesco partiamo dalla birra e dal pranzo l'obiettivo è quello di fare la ferrata delle guide tutte le varianti prima mangiamo ci rifocigliamo e poi andiamo eccoci qui gressonella trinité vista sul monte rosa adesso partiamo per la via ferrata si sviluppa su queste pareti strappiombanti fase di attrezzaggio in corso fatemi un saluto mamma come sono carichi si sale su questa facile poderale qui si passa questa rete si va all'attacco della rossa oggi faremo la rossa che primo tratto in comune e poi in cima alla rossa abbiamo due varianti la gialla a destra forse faremo per prima che è quando come è difficile e di meno e invece poi a destra c'è la nera che a detta di via ferrate 365 è quella fisicamente più impegnativa d'italia che è e di più qua siamo all'attacco della rossa periodo di apertura e chiusura primo giugno 31 ottobre dai e si parte subito trattino leggermente aggettante dove sta passando il buon alex secondo tratto qui subito molto fisico la roccia bella umida primo pezzo della rossa è andato se il traversino in piano e l'aria attacca verticalità sempre massima l'osca che camina incastrato qua verticalità sempre massima la macchina da parcheggio gressonei e l'entourage questo tratto bello fisico bel pezzo in negativo qua il tratto rosso finisce esattamente qui già molto atletico molto impegnativo qui c'è il primo ponte tibetano eccolo qua a sinistra la nera e a destra la gialla e qui volendo c'è la prima via di fuga uscita inizieremo con la variante gialla quindi questa che sale dritta che è un pelo più semplice della nera bello sto ponte preferisco per che sia bello preferisco per me concordo come sgagnano uno è appeso sei coro in via sono ancora sul ponte appena percorso e questa è la gialla ragazzi temo già la nera mania ragazzi pezzo veramente tostissimo questa mania le mani bella eh vado Oscar vai variente numero uno è andata bella un momento ho le braccia ghisate vediamo solo la gialla esatto Baitebodma sta segnando la fine della via ferrata siamo a 19 sì 1930 più o meno via del rientro verso il ponte tibetano c'è un bivio a sinistra si va a Gressonei c'è anche il cartello a destra si continua e si ritorna in fondo al percorso rosso della via ferrata altro giro altra corsa sul ponte tibetano numero uno poi lì ce ne sarà un altro e c'è un traverso sul tronco strapiombante in discesa sul tronco ma porca diciamo che asciutto non è io mi ci siedo sopra sotto ti fai anche la doccia gratis la guarda lo shampoo me lo passi tieni ti lancio lo shampoo l'ho lasciato nel zaino ma è veramente bagnato fradicio qua di che i cavi me li avete asciugati voi e qua è bello strapiombante ma è mare gas come bisogna girare la testa per filmarvi bella mannaggia che ferrata ragazzi più strapiombante di così porca la miseria mamma mia ancora strapiomba qua mamma mia sto pezzo venite se siete allenati di braccia ragazzi mamma mia guardate non si vede non si vede dove siamo passati talmente strapiomba mamma mia mamma mia bravi ragazzi bene e la guida di Gressonei l'abbiamo documentata bello sole va giù e noi andiamo a berci una bella birra mi sembra l'ideale rientro su Gressonei molto facile sul bel sentiero e noi vi salutiamo alla prossima ciao 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 ciao